Il Napoli è ancora primo in classifica dopo l'ottava giornata di Serie A. Ha vinto contro la Roma all'Olimpico per il primo grazie al 100 mogol tra i professionisti di uno dei giocatori più decisivi e più in forma della squadra, Lorenzo Insigne. Il Napoli ha ora due punti in più dell'Inter seconda in classifica e cinque punti in più della Juventus, la sua avversaria più temibile, che ha perso in casa contro la Lazio. Per il Napoli di Sarri, che finora non ha lasciato per strada nemmeno un punto, prosegue l'inizio di stagione da record. Nessun'altra squadra in Europa è prima a punteggio pieno, e quella arrivata a Roma è l'ottava vittoria in otto partite.